100 volte Emanuele Francioni, la diciassettesima perla stagionale però ha un retrobusto amaro, non basta al Fontanelle Branca per piegare la resistenza dell'atletico Orte, che anzi al Santa Barbara coge un successo fondamentale, rilanciandoci come meglio non avrebbe potuto fare, in ottica play-out, deve restare aggrappata alla gara con le unghie con i denti, la formazione di cavalli, nel giorno in cui il catino Brancaiola è più vuoto, colpa dell'infelice collocazione del calendario e forse per questo anche un po' più accessibile. Si conteranno ad occhio 94 spettatori, tra vecchi lavori e semplici bambini, accorsi per godersi un paio d'ore di svago, ma avrebbe voglia di chiudere tutto e tornare un altro giorno. Sul campo, in vero, Fontanelle Branca Atletico Orte non si fanno mancare nulla, gara vibrante e incerta fino all'ultimo, nonostante entrambi gli allenatori lamentino più di un'assenza. Quelle di Fusca e Morelli sono tanta roba per gli ospiti, obbligati a fare bottino a pieno per ricucire il meno 11 dalla quintultima piazza. Il turno aver operato talisarelli ha invece ragionato, con Astolfi, Maurizzi, Passeri e Bettelli di nuova informazione. E con la novità Pierotti, bomber della Juniore, si inappoggia a Manuele Francioni, unica punta. Le gambe tremano di più agli ospiti e si vede, perché il primo tempo, quanto ad occasioni da gol, sarà tutto di Marche e Gubina, con Francioni che scalda subito le mani a Cacchioli, transitata a Gubbio in Lega Pro senza troppa fortuna, giusto tre stagioni fa. Gaggiotti sulla sinistra si fa la solita sgroppata, ma Pierotti sotto misura si intenerisce, mandando inspiegabilmente a lato. La palla gol più clamorosa però capita sulla testa di Nardocci, che si improvvisa a riete d'aria, ma nella direzione sbagliata, deviando la sfera sulla traversa. Gnagni si ritrova la palla sul destro e calcia senza pensarci su troppo, ma il pallo gli nega la gioia, meritatissima, della prima marcatura stagionale, con Cacchioli che poi fa sulla sfera. L'Orte fa una fatica tremenda a rendersi pericoloso dall'altre quarti in su. La partita in mano è Brancaioli, ma Cacciamani non arriva sull'invito da destra di Passeri, molto attivo e generoso come suo solito. L'Argentina nel giorno del suo 34esimo compleanno si gode lo spettacolo nei pressi della bandierina e assiste la posizione privilegiata al primo squillo ospite col Leonardo che in acrobazia alza sopra la traversa. Poca roba rispetto a ciò che spreca Roberto Francioni, che spedisce a lato di testa l'invito dalla bandierina di Passeri, col povero Federico che a bordo campo non si dà pace per l'errore del difensore. La prima frazione ai punti la meriterebbero gli Eugubini, ma si chiude a reti bianche. La ripresa, come prevedibile, racconterà almeno in parte un'altra storia, perché Cavalli sproni i suoi ad andare alla battaglia e qualcosa in più gli ospiti la mettono in mostra. Intanto protestano per un contatto veniale in area di rigore tra Gaggiotti e Paolucci, che pare cedere nella caduta, ma poi ringraziano Cacchioli che li tiene in vita salvando dei piedi su Passeri alla ricerca del primo sigillo in eccellenza. Al 19esimo però ecco il primo spartiacco della gara. Una palla allungata sul secondo palo porta al contatto prolungato tra Cacciamani e Davide Bobboni, strattonato a detta di Luigi Zimbardi di Perugia a tal punto da Indurla a fischiare il calcio di rigore e sventolare al contempo il rosso diretto a Cacciamani, reo di aver fermato una chiara occasione da gol con una trattenuta. Se il fallo è meritevole di essere punito, l'interpretazione del regolamento non fa una piega, così come è impeccabile la trasformazione di Gentili con Astolfi che non arriva sulla sfera. Un paio di minuti dopo, Bobboni e Bagnato si divorano sotto misura la rete del 2-0, mentre la gara è sempre più spezzettata e senza ritmo. Entra però Battistelli, ancora una volta ci pensa lui, a spaccare in due la partita. Giocata sontuosa in mezzo a tre uomini e invito al bacio per Francioni che di testa firma l'1-1, nonché l'undicesima rete nel girone di ritorno, la diciassettesima in stagione e la centesima in carriera, una in C2 e 99 in eccellenza tra Marche e Umbria. Spunta anche uno striscione celebrativo e di colpo l'inerzia della gara pare svoltare dalla parte degli Eugubini, nonostante l'undici di Risarelli giochi contro vento. Gaggiotti a sinistra spinge a manetta ma non controlli il traversone perdendo l'attimo fuggente, anche perché sul ribaltamento di fronte da una punizione smorzata dalla barriera nasce l'assist involontario per Gimmelli, che addomestica la sfera e col mancino la spedisce sotto la traversa, fulminando Astolfi e consentendo all'orte di rimettere il naso avanti. È un'ammazzata terribile per il Fontanelle Branca che pure prova a reagire nuovamente. Al 41esimo Gnagni lascia il posto Daniele Cerbella, che dopo due anni ritrovi il rettangolo verde facendo il suo esortio durante la gestione di Risarelli, lui che pure dello spogliatoio ha un leader assoluto. Paolucci, tra i migliori dei suoi, ha una reazione sopra le righe dopo uno scontro di gioco e l'assistente Cardinali lo fa espellere, scatenandole la reazione isterica. Ad Assistera al finale spuntano anche i giocatori del Petrignano, reluci della trasferta a vuoto di Torgiano, ma nonostante le buone intenzioni dei locali, due punti appena nelle ultime quattro gare, non succede più nulla, con i giocatori ospiti che a fine gara esultano quasi come se avessero vinto la prima minifinale del loro finale di stagione da dentro fuori. È un po' come la pubblicità del telefono di una volta, proprio quello che ti allunga la vita. Grazie a tutti.